Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Retro Gaming Oggi, dopo averlo restaurato e fatto tornare in perfette condizioni Il nostro VIC-20 Eccolo qua Il VIC-20, guardate la cartuccia Ma guardate la scatola del gioco Robotron 2084 L'Atari faceva i giochi per il VIC-20 Guardate il dietro, se questo non è Retro Gaming, cosa lo è? Se questo non è Retro Gaming E ecco il gioco Il joystick è pronto E andiamo a vedere cosa succede Eccoci qua, pronti con il joystick in mano E pronti per una partita Allora, pronti? Guardate che figata che c'è anche il record con i nomi Esattamente come al bar Era il 1981 Partiamo Pronti? Ok Start Ok Noi siamo il robot al centro E dobbiamo distruggere Ecco, ci ha appena ucciso Ma sentite i rumori Da sala giochi proprio Ecco Aspettate Ok, riproviamo Facciamo una figura migliore in questo video Ecco appunto Devo dire che finora me l'ero cavata abbastanza bene Ok, quadro passato Ok, quadro passato Attenzione Boom No Ma sei un pirlotto Ma guardate che spettacolo il gioco Guardate il gioco Guardate Game over Vabbè Vabbè Riproviamo Ok Vai Faremo una figura migliore Questi li dobbiamo prendere che ci danno i punti Ecco Ho preso l'asteroide Porto Giuda Ok Quadro passato Ma no Ogni tanto non mi spara Ci devo mettere più energia Dai Carlino Ok Concentratissimo Basta Adesso verrà fuori tutto il nerd che è in me Ok Quadro passato Ce la possiamo fare La donna quanti siete Beh Ho capito Ma io muoio Non so ma come te Ok Quadro passato Ne spareranno pure loro Ok Ce la stiamo cavando un pochino meglio Sì Quadro passato Ok Madonna ma quanti siete No Ma ha preso col laser spaziale Il problema è che se non metti il record Vi voglio far vedere quando metti il record Che ti fa scegliere i tre I tre iniziali Come nella sala giochi Come quando ero Come quando ero Come quando ero piccolo Ok Adesso vi faccio vedere io Ok Vieni qua Vieni qua Ma no Ma perché Ok Quadro passato Questo lo dobbiamo prendere E ci dai punti Vai Ok Mille punti Duemila punti Tremila punti Stavolta li sfoghiamo Ok Passato il quadro Stavolta mettiamo il record Vai No Ho preso la nebulosa B623 Guardate che figo Iniziali Eccolo qua M M M P S Eccoci qua M P S Siamo i secondi Spero che il video vi sia piaciuto Aspettate che abbassiamo il volume Spero che il video vi sia piaciuto Dal 1981 Commodore Vic 20 E Buon retro gaming a tutti Ciao Dimenticavo Iscrivetevi alla pagina del canale Mettete un like al video se vi è piaciuto E Iscrivetevi al canale Fate conoscere il canale E Ciao